La Lega si ritrova a Villeponti di Varese per gli stati generali, un po' una prova per capire come saranno le elezioni di settimana prossima, ma soprattutto per capire quale potrà essere la strategia da impostare nel periodo che succederà alle elezioni. Giorgetti raduna le sue truppe, c'è chi dice che lo faccia per creare quella Lega governativa che andrebbe a contrapporsi a Salvini, ma Salvini stesso in collegamento video dice non ascoltate chi fa l'inzigatore di professione e quindi cerca di mettere litigio all'interno della Lega. I lavori sono appena cominciati, Giorgetti nell'ingresso a Villeponti ha fatto solo brevi dichiarazioni, attendiamo in aggiornamento quello che dirà alla fine dell'incontro. Giustamente è un momento di confronto, di esperienze dei tanti amministratori, sindaci che abbiamo in Lombardia che sono una forza, è una forza del movimento. Il proprio Varese è un simbolo un po' anche per voi, no? Sì, è un simbolo ogni comune che esprime un radicamento e una comunità, dove la Lega giustamente che vuole rappresentare esattamente le istanze, i bisogni delle comunità dei cittadini ambisce in qualche modo a gestire e indirizzare queste comunità. Ho il sentimento popolare e credo che questa sia la cosa fondamentale da mettere in premessa a ogni tipo di sondaggio che vi viene proposto. Quindi il vero sondaggio è capire in questo momento anche un po' confuso, dopo tutto quello che è successo, quanto la gente partecipa e parteciperà al tratto elettorale. Questo mi è il primo dato che già domenica prossima…